Buongiorno, siamo a Palazzo San Giacomo, incontriamo l'assessore alla cultura e al turismo Nino Daniele che partecipa con l'autorità portuale all'evento Porto Aperto. Perché il Comune di Napoli ha deciso di sostenere questa manifestazione? Beh, è una bellissima manifestazione che dal mio punto di vista cerca di mantenere una promessa in prospettiva e soprattutto rafforza una visione, cioè quella che è il Porto è un luogo di comunicazione diretto tra il mare e la città di Napoli quindi un fattore di identità storico-culturale fondamentale e appunto immaginarlo aperto e pieno di cittadini che vivono ovviamente una grande scoperta della storia meravigliosa che lì è stata scritta ma anche con pagine drammatiche come quella dell'immigrazione serve a farci riflettere molto sul nostro presente alla luce di un grande passato che deve diventare progetto per il nostro futuro. Grazie.